Appena ripulito è già di nuovo sporcato, nulla di irrimediabile una busta di immondizia gettata da uno dei ponti che sovrastano il canale, ma che dà il segno di quanto la battaglia di civiltà per mantenere in uno stato decoroso il vallone tittadegna sia ancora lunga e irta di ostacoli. Siamo tra Barletta e Margherita di Savoia, da qualche giorno il canale artificiale di raccolta delle acque piovane è stato bonificato dalla presenza di una quantità enorme di rifiuti di ogni tipo, anche pericolosi, rifiuti che in concomitanza delle piogge finivano trasportati nel fiume Ofanto e poi nel mare Adriatico con gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Le operazioni di pulizia sono state portate avanti dalla Barsa, costo dell'intervento durato diversi giorni 17 mila euro. Rimane ora da chiarire di chi sia la gestione salvaguardia del vallone tittadegna, se del comune di Barletta o del consorzio di bonifica Terre da Puglia, dunque della regione. Il contenzioso rimane aperto, ma la tutela del territorio, spiega il sindaco Cannito, spetta innanzitutto ai cittadini che non possono continuare ad inquinare una zona sensibile dal punto di vista ambientale con grave danno anche per le casse comunali. Appena ripulito è stato subito sporcato da dei delinquenti, da dei balordi, che subito hanno ritenuto, una volta visto pulito, di risporcare la carne. Quindi stiamo pensando a qualche altra soluzione di prevenzione e di repressione. Però rimane in piedi il problema di chi è la responsabilità della gestione di quel vallone che non è un corso d'acqua, ma è un canale. Vi do quest'altra informazione. Sia la bonifica Terre da Puglia che la regione mi hanno intimato di rimuovere l'ordinanza che io ho emanato, attribuendo a loro la responsabilità della gestione dei rifiuti e della prevenzione di quei luoghi, circa l'abbandono. Ora, io quella ordinanza non la rimuoverò, andremo davanti al Tribunale perché una volta per tutte si dovrà sapere a chi spetta il dovere di prevenire e eliminare i rifiuti nel caso in cui vengono abbandonati, ripeto, da questi cittadini delinquenti e balordi che non hanno rispetto dell'ambiente. Ad accendere i riflettori sullo stato di degrado del vallone tittadegna è stato l'ambientalista Antonio Binetti con uno sciopero della fame durato tre giorni. È stato grazie alla sua denuncia se le istituzioni si sono finalmente adoperate per la bonifica del canale. Per questo ringrazio entrambi le parti, quindi regione e comune, che si sono dedicate a ripulire quell'aria. Dopo tre giorni di sciopero della fame non fa niente, però è stato un segnale molto forte e spero che sia servito anche a smuovere le coscienze di altri cittadini.